Continua l'iniziativa di Ragazzi in Aula, progetto che permette ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di conoscere i processi decisionali che portano alla creazione delle leggi. Il 15 ottobre si è riunita in commissione la classe seconda B del liceo scientifico Ancina di Fossano, che ha presentato un progetto di legge sul miglioramento del servizio di trasporto per gli studenti pendolari.